Ciao a tutti, oggi faccio un giro in un negozio di alimento e decorazione marocchina. Questo negozio si trova a Sassolo e ovunque siate potrete trovare uno nella vostra città e trovate le stesse cose. E vi ricordo che non voglio fare pubblicità perché sono ancora all'inizio. L'ho fatto solo perché me l'hanno chiesto tanti dei miei amici per sapere gli ingredienti delle mie ricette. Tutto qua. Intanto vi lascio l'indirizzo in descrizione e infine spero che vi piaccia e non dimenticare di iscrivervi al canale e attivare la campanella. E alla prossima. Tanto quando faccio il giro ci sono tante cose che sono interessanti come la couscousiera dove è fatto il couscous, poi il tagine, poi dove va il tè, i bicchieri di tè, poi il nostro tè, le cose di decorazione, le olive e soprattutto le spezie che uso nella cucina. Vi lascio finire il giro e alla prossima ancora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.